bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono il radio della rivista cancelletto 1 farò la recensione di un film del 1944 il giardino delle streghe una bambina introversa si costruisce un mondo dei sogni in cui l'amica immaginaria il fantasma della prima moglie di suo padre malata di mente vista solo in fotografia il mio voto a questo film è 7 ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto le scene del film l'interpretazione nella sceneggiatura è di genere dell'orrore e la durata è un'ora e dieci minuti i registi sono Gunther von Fritsch e Robert Weiss la regia è buona bravi registi paesi di produzione stati uniti d'america l'attrice è Simon Simon brava attrice nel film anche Ann Carter Kent Smith Elizabeth Russell Jane Randolph Giulia Dean Eve Mars Edford Gage Sir Lancelot Delos Jeff Cass Saluto Anna Samobrina Cita Aliciotola Markolf Mariuccia Leo Tassoni Bulluni Van Drago Michele Trigigliani Favij Picchiatore Telefine 122 MrBikeTV Il Tri Medusa Bulluni Van Drago guardate questo video lasciate dei commenti lasciate dei like iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram arrivederci e al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto Grazie a tutti